Buonasera ai nostri telespettatori vi ritrovate all'appuntamento con i fatti e le opinioni subito dopo il weekend c'è il 25 novembre che non è un giorno come tutti gli altri anche se il 25 novembre dovrebbe essere ogni giorno è il giorno in cui facciamo di tutto per lanciare messaggi relativi alla violenza di genere alla violenza in generale alla violenza alle donne e a comportamenti violenti in via generale è un giorno che va vissuto tutto l'anno ripeto perché questo peraltro anche lo slogan scelto dal comune di Pescara 365 giorni sono quelli che dovrebbero essere dedicati a evitare e soprattutto a fare nostra la cultura di un ripudio di ogni forma di violenza però in questi giorni in particolare è bene accendere ancora di più i riflettori su quelle esperienze virtuose che sostengono le persone che vivono una condizione difficile e che aiutano la nostra società ad essere migliore noi lo facciamo dando il nostro piccolo contributo così come stiamo facendo proprio assieme al comune di Pescara in questo periodo per mettere a disposizione anche i volti le firme della nostra emittente e le nostre finestre informative su un progetto di cui parleremo tra poco però lo facciamo questa sera davvero ad alto livello posso dirlo e sono veramente orgoglioso della trasmissione di questa sera perché per la prima volta abbiamo l'occasione e l'onore di avere con noi chi effettivamente ogni giorno vive questa lotta in prima linea, in trincea, la lotta alla violenza ed è il gruppo antiviolenza della Procura della Repubblica di Pescara istituito da 4 anni sono qui nei nostri studi per questo io non finirò mai di ringraziare il procuratore capo Giuseppe Bellelli in particolare anche il procuratore aggiunto Anna Rita Mantini che è stata la prima a dar vita a questa esperienza e ringrazio naturalmente le due prime ospiti che vado a presentarvi Fausta Fellegara buonasera buonasera dispettrice superiore e Giorgia Orsiena buonasera anche a lei buonasera dispettrice di polizia c'è anche un terzo poi lo saluterete voi un terzo vostro collega dei carabinieri che ha dato vita a questo gruppo Interforce che è un fiore all'occhiello possiamo dirlo di questa città di questa procura di questo tribunale perché spiegheranno loro cosa fanno in che modo operano e soprattutto lo spirito innovativo di questa esperienza salutiamo e ringraziamo Daniela Gagliardone presidente dell'associazione Ananche di Pescara buonasera lei che vive anche lei in trincea ogni giorno alla guida dell'associazione principale che sul territorio gestisce centri antiviolenza e soprattutto promuove le politiche contro la violenza di genere che si innestano con l'attività che ha anche quest'anno messo in campo il comune di Pescara attraverso questa serie di eventi per i quali mi aiuterà a incuriosirvi la collega Paola Di Simone buonasera Paola buonasera Carmine grazie per l'invito un invito che servirà anche a me perché ovviamente confido nella tua sensibilità anche per aiutarmi a intervistare volentieri le altre nostre graditissime ospiti allora io inizierei ringraziando ovviamente lo ho fatto con la Procura della Repubblica ma lo faccio naturalmente anche per la Polizia di Stato che ha autorizzato appunto questa presenza in televisione di questo sono particolarmente grato ovviamente al Procuratore Bellelli ma anche al questore di Pescara Carlo Solimene il quale ci parlerà in un'intervista che introduce un po' tutto il nostro lavoro anche dell'attività che la Polizia svolge nella sua attività di prossimità giorno per giorno al servizio delle vittime di violenza e in questi giorni in particolare anche con una serie di iniziative promozionali l'intervista realizzata dalla collega Antonella Nicolitti è anche l'occasione per fare un po' il punto su alcuni episodi degli ultimi tempi che hanno un po' inquietato il clima nella città nella provincia di Pescara può partire il contributo Signor Questori innanzitutto grazie per averci ricevuto sappiamo che il 25 novembre è la giornata contro la violenza di genere la Polizia è sempre in prima linea e in questo caso anche la Questura di Pescara ci sarà un evento in particolare e ce ne vuole parlare? La Polizia di Stato come lei giustamente diceva e la Questura di Pescara intervengono a Gambatesa in un evento importantissimo una campagna permanente del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che si chiama Questo non è amore a questo evento che si terrà presso il Soto di Ciecco di Pescara interverranno i player della nostra città abbiamo chiesto l'intervento della magistratura pescarese delle istituzioni importanti del Sindaco della Prefettura perché sono tutti loro che poi fanno rete insieme a noi per prevenire e contrastare fenomeni molto toccanti e molto seguiti anche da tutte le comunità l'evento è un evento secondo noi di sensibilizzazione è chiaro che è un evento che noi andiamo a lumeggiare in quella giornata ma che seguiamo per i restanti 364 giorni all'anno noi siamo molto fortunati qui a Pescara non soltanto perché abbiamo una procura molto sensibile ma siamo anche fortunati perché Pescara ha ancora un suo controllo sociale ha ancora una sua rete di protezione tanti dei casi che noi abbiamo trattato sono emersi anche da piccole informazioni da attività informative che magari in un quartiere si registrano e che poi via via vengono calibrate meglio fino poi ad arrivare a svelare quella che è una situazione di disagio per cui ovviamente non posso che incitare tutti a denunciare di fronte a fatti come devo dire che possono essere essenzialmente meno gravi ma che poi via via possono tramutarsi in situazioni di profondo disagio per cui sicuramente dovete far riferimento alle forze dell'ordine alla polizia di stato che è pronta a supportare le esigenze dei cittadini la violenza di genere che è mutata nel senso c'è una violenza offline e prima mi diceva una violenza online una violenza perpetrata in rete che si sta diffondendo sempre di più ma diciamo innanzitutto che è un fenomeno quello della violenza offline è un fenomeno trasversale riguarda il mondo occidentale tutte le forze di polizia ma anche la polizia di stato si è attrezzata per prevenire e contrastare questi fenomeni parallelamente ma questo perché fa parte del mondo dell'evoluzione del mondo occidentale è chiaro che internet che è una grande risorsa può avere anche dall'altra parte della medaglia dei difetti dei dubbi e possa essere come dire possa riservare delle brutte sorprese tra queste ovviamente abbiamo la violenza online cioè tutto quello che riguarda il mondo del revenge porn tutto quello che riguarda il mondo estorsivo tutto quello che riguarda la fine di un rapporto sentimentale che poi possa sfociare in un tentativo di estorsione o un'estorsione realizzata per cui magari c'è la divulgazione di filmati di fotografie questo ovviamente può far cadere nello sconforto interi nuclei familiari e la persona che subisce questo tipo di affronto anche qui siamo diciamo in prima linea la polizia postale delle comunicazioni ormai ha più di 20 anni di esperienza anche in questo settore e anche in Abruzzo è molto ben rappresentata con un compartimento regionale ecco sulla violenza online io sarei particolarmente attento perché riguarda tutte le fasce deboli per cui può essere la violenza ci possono essere i casi di bullismo ci possono essere i casi di cyberbullismo ci possono essere i casi di di revenge porn ci possono essere i casi di truffe sentimentali che poi possono portare un forte scoramento da parte di soggetti che invece non sono attrezzati a resistere a queste tensioni e molte volte qualche volta questo può portare anche a delle estreme conclusioni e poi c'è l'altro lato e c'è quello degli uomini maltrattanti in questo caso cosa si può fare? ma in questo caso ritorniamo al punto di partenza anche qui abbiamo bisogno della collaborazione dei cittadini il disagio maschile molte volte si registra per una serie di altre patologie pensiamo alla ludopatia pensiamo a tutto quello che accade attraverso il gioco d'azzardo pensiamo per esempio all'uso di alcol tutto questo ovviamente può portare un disallineamento della realtà e non vedere con equilibrio quelli che sono i propri affetti familiari che invece poi vengono registrati dal maltrattante come degli ostacoli alla propria vita che vuole condurre tutto questo ovviamente deve essere riportato al regime deve essere riportato in un equilibrio che può essere anche centri di ascolto e psicologi che possono come devo dire ascoltare tendere una mano a soggetti i quali evidentemente anche loro vivono un momento di disagio questo disagio però non sempre poi viene ricondotto nella strada dell'equilibrio ma molte volte trova all'interno dell'abitazione del proprio nucleo familiare una verifica un ostacolo per cui si tende come devo dire a usare violenza pur di superare quell'ostacolo per concludere signor questore un appello affinché si possa trovare il coraggio di denunciare denunciare bene ma anche parlare sentirsi venire da noi anche per avere un consiglio abbiamo la possibilità di esprimere professionalità e sensibilità in modo da rendere ancora più partecipi e più sicuri i nostri cittadini non è mai troppo tardi per chiedere aiuto molto chiari e interessanti anche di spunti per questa trasmissione delle parole del questore io vado subito nel cuore della questione nel presentare le nostre ospiti intanto chiedere a Fausta Fellegara che cos'è il GAV della Procura di Pescari ho detto appunto siete attivi da 4 anni ma insomma un po' la vostra carta d'identità la specificità del vostro lavoro Sì buonasera allora direttore il GAV è il gruppo antiviolenza ed è uno sportello e ufficio giudiziario presente presso la Procura della Repubblica di Pescara dal novembre dell'anno 2020 fortemente voluto da una particolare sensibilità dimostrata dal nostro procuratore aggiunto dottoressa Annalita Mantini la quale con i suoi collaboratori ha deciso di creare questo ufficio e questo sportello al fine di creare un ponte tra la cittadinanza e il sistema giustizia e quindi di agevolare appunto il contatto con l'autorità giudiziaria da parte del cittadino il cittadino che non deve vedere l'autorità giudiziaria come un qualcosa di chiuso o di autoritario ma deve vedere appunto questo sportello come un'occasione per poter anche solo diciamo chiedere informazioni essere supportato comprendere quali sono le eventuali strade percorribili e pertanto si è deciso di creare questo gruppo che è composto da forze dell'ordine altamente specializzate nella materia della violenza di genere è un gruppo interforze voglio precisare qui con noi oggi non è potuto essere presente ma noi abbiamo un collega dell'arma dei carabinieri il luogotenente CS Guido Mariani e poi è composto da me e dalla collega che conoscerete tra poco l'ispettore Orziena e questo gruppo collabora con psicologhe collabora con gli avvocati collabora con tantissimi enti i servizi sociali scuole associazioni con il centro antiviolenza collaboriamo quasi quotidianamente e anche con la ASL i servizi ospedalieri i sociassistenziali e anche il terziario perché è importante diciamo è un esempio virtuoso questa realtà di Pescara perché dopo quattro anni di questa esperienza possiamo dire con certezza che le gab diciamo non è soltanto un semplice sportello ma noi andiamo anche a supporto degli enti che ce lo chiedono e quindi ci muoviamo anche materialmente dall'ufficio per supportare enti come le scuole le scuole molte volte ci chiedono dei consigli pratici su situazioni che emergono in ambito scolastico e così pure con i servizi sociali abbiamo un rapporto costante e continuo perché molte volte c'è necessità di mettere in sicurezza i minori con urgenza con un 403 ad esempio previsto dalla legge che per spiegarlo al cittadino semplice è un allontanamento dei minori in situazioni particolarmente critiche che le spongono a un forte pregiudizio e quindi diciamo questa è una materia che per un fenomeno che per essere affrontato necessita inevitabilmente del coordinamento tra gli enti e quindi il sistema giustizia si deve integrare anche con il ruolo si perché spesso si ha l'idea appunto della procura come luogo dove si perseguono i reati gli autori dei reati voi invece siete diventati una sorta di sportello sociale assolutamente assolutamente sì pertanto invitiamo i cittadini a recarsi nel nostro ufficio anche solo per un semplice supporto consiglio e per essere indirizzati anche qualora non vi fossero diciamo anche elementi prettamente di reato sì e non soltanto per reati che riguardano le donne ma reati di violenza in genere noi trattiamo anche tutto ciò che concerne le fasce deboli come poi spiegherà meglio la collega quindi anche per situazioni che possono riguardare anziani a rischio o maltrattati o abbandonati ed altre situazioni che possono riguardare minori e quindi diciamo che raccogliamo tutta quella tipologia di reati appunto che riguardano le fasce deboli mi faccio anche dire che chiaramente noi la nostra attività investigativa che è quella che c'è più propria è chiaramente sotto le direttive di un pool di magistrati che poi spiegherà la collega da chi attualmente è composto allora Giorgio Orsiena nella operatività quotidiana ecco intanto come arrivare da voi soprattutto c'è sempre un po' di timore quando ci si avvicina a un palazzo di giustizia ecco riuscite anche a superare questo gap di diffidenza anche di riuscite anche a salvaguardare la privacy delle persone che hanno bisogno di voi allora sì assolutamente buonasera a tutti io se possibile se mi permette vorrei fare un ringraziamento lo faccio io ma credo di poter parlare anche a nome della collega chiaramente da prima al procuratore capo Giuseppe Bellelli e al procuratore aggiunto dottoressa Narita Mantini nonché alla nostra amministrazione la polizia di stato che comunque ci ha permesso stasera di essere qui con voi io sono un nuovo acquisto di questo gruppo non è da molto che sono con loro e ringrazio diciamo la mia amministrazione e il procuratore capo di avermi dato questa possibilità perché è un momento assolutamente di arricchimento oltre che ovviamente una missione perché la nostra divisa in realtà è una missione indossarla è una missione ogni giorno io sono entrata in questo gruppo da poco posso dirvi che è assolutamente un valore è un valore aggiunto il fatto che ci sia uno sportello uno sportello che anche logisticamente è stato pensato per rendere l'utenza come dire è uno sportello facilmente accessibile e posto al primo piano del palazzo di giustizia al piano terra del palazzo di giustizia non occorre per accedervi la presentazione di un documento quindi lo si può fare in assoluto anonimato ed è come diceva la collega un punto di incontro un punto al quale rivolgersi qualora chiaramente si voglia sporgere una denuncia querela perché noi abbiamo la possibilità chiaramente di acquisire le denunce querele ma siamo un punto di ascolto le donne possono venire da noi anche per confrontarsi per comprendere quali siano gli strumenti più utili dal punto di vista legislativo ma anche praticamente come si possa uscire appunto dal tunnel della violenza non è facile denunciare è un percorso lungo complesso e quindi anche un piccolo passo anche poter confrontarsi parlare riesce in qualche modo a è uno stimolo quindi la possibilità di confrontarsi quindi da voi vengono non soltanto per capire come uscire ma anche come non entrare magari anche se non si sono verificati i fatti ma si ha una preoccupazione rispetto alla persona esattamente non ci si reca presso l'ufficio assolutamente presso l'ufficio del gruppo antiviolenza solo ed esclusivamente per sporgere una denuncia querela ma ci si reca anche per avere informazioni in merito appunto ai centri antiviolenza all'assistenza legale ricordiamo che tutte le vittime di violenza quindi vittime dei reati che sono ricompresi nel codice rosso ma comunque tutte le vittime vulnerabili e quindi parliamo di anziani di minori quindi per tutti questi reati è prevista la diciamo l'assistenza legale gratuita quindi il gratuito patrocinio quindi l'assistenza legale è garantita dallo Stato questo è importante ricordarlo perché anche a livello economico non tutti hanno la possibilità di intraprendere magari un percorso a propria tutela quindi presso questo sportello si potranno avere tutte le informazioni necessarie ad uscire appunto dal tunnel della violenza chiaramente lo diceva la collega noi siamo un ufficio investigativo quindi la nostra è un'attività diciamo di supporto è comunque coordinata da questo pool di magistrati che appartengono che si occupano solo di reati in materia di codice rosso e comunque reati commessi nei confronti delle vittime vulnerabili cosiddette fasce deboli attualmente i magistrati che si occupano di queste categorie sono per l'appunto la dottoressa Rana la dottoressa Salvatore il dottor Varone e il dottor Pompa che appunto coordinano la nostra attività investigativa lo diceva la collega e se mi permette lo ribadisco vorrei sottolinearla questa cosa il nostro ufficio è un ufficio che invadi interloquire ha una funzione di supporto e di orientamento anche nei confronti di tutti gli enti che a vario titolo entrano a far parte diciamo ogni giorno della nostra vita quotidiana e quindi della scuola diciamo degli antideputati all'assistenza sanitaria degli antideputati all'assistenza sociale e quindi ai servizi sociali al servizio sanitario nazionale è importante che vi sia una collaborazione una comunicazione perché è vero sì bisogna denunciare però è importante anche non girarsi dall'altra parte lo spunto investigativo può arrivarci anche appunto da un pediatra da un medico di base dalla scuola sono luoghi nei quali magari si riescono a cogliere quelle situazioni di disagio che noi personalmente direttamente magari non abbiamo modo di cogliere e quindi segnalare non girarsi dall'altra parte anche vicini di casa assolutamente questo credo che sia un compito anche da cittadini e sì ripeto denunciare è sicuramente la strada utile e quella necessaria quando si subiscono delle violenze ma è importante noi abbiamo un ruolo sociale io sono una cittadina italiana un appartenente alla polizia di stato tutti quanti noi dovremmo prestare più attenzione a questi segnali di disagio che poi sono il terreno fertile nel quale si potrebbero sviluppare situazioni di violenza essere noi stessi sentinelle della legalità come si dice ma come nella realtà dovrebbe esserci perché oggi la violenza ha tanti segnali che non è facile interpretare se non purtroppo a volte a posteriori quando le cose sono già accadute lo sa benissimo Daniela Gagliardone io intanto faccio i complimenti perché siete state bravissime anche nella vostra prima uscita televisiva ma adesso ci sarà soprattutto Paola che vi interrogerà ulteriormente per togliersi altre curiosità che poi sono le curiosità di tutti di fronte appunto allo sforzo che si sta facendo per vincere questa battaglia una battaglia una battaglia dicevo Daniela che voi vivete da anni siete presenti sul territorio avete centri antiviolenza avete iniziative e sportelli anche voi per ascoltare per cercare di intervenire ecco questo nuovo strumento che ormai da 4 anni è presente sul territorio questo raccordo che adesso avete anche con l'autorità giudiziario come si può dire un canale preferenziale è un aiuto anche per il vostro lavoro cioè a Pescara si è notato questo salto di qualità da quando è nato il GAV non lo dica perché sono presenti loro ma eravate un po' più sole 4 anni fa sì di nuovo allora buonasera a tutti sicuramente sì allora la presenza del GAV è significativa perché innanzitutto noi come centro antiviolenza operiamo a Pescara ormai da 20 anni abbiamo sia il centro antiviolenza che una casa rifugio dove collochiamo le donne che devono allontanarsi in situazioni di emergenza abbiamo spesso necessità proprio di una interlocuzione con le forze dell'ordine i servizi sociali quindi con gli altri partner gli altri soggetti quindi a volte per noi diventa necessario proprio come dire indirizzare anche la signora perché la donna che magari dopo come dire un percorso non semplice decide comunque di denunciare e indirizzarla in un luogo in cui appunto si possa sentire sicura tranquilla e in un ambiente protetto dove possa poi appunto sporgere la denuncia il GAV sicuramente a Pescara ripeto è significativo proprio perché secondo me garantisce queste qualità e c'è una forma di collaborazione diretta quotidiana infatti lo hanno detto anche gli altri ospiti e comunque come dire c'è una formazione e su questo aspetto io forse vorrei sottolineare un'ulteriore cosa cioè nel senso tutti gli operatori che operano sul tema della violenza di genere necessariamente devono essere formati sul tema perché diciamo c'è bisogno di avere delle qualità delle specificità per poter comprendere il fenomeno per poterlo intercettare per poterlo poi come dire anche trattare e quindi è necessario che anche le forze dell'ordine siano adeguatamente formate il primo passo è sempre il più difficile quando io devo raccontare una cosa e ho il dubbio se raccontarla quando io devo confidarmi ho il dubbio se confidarla la svolta avviene se io trovo davanti di fronte a me la persona giusta mi pare di capire sia questo il tema sicuramente sì ma infatti il centro antiviolenza nello specifico Ananche quindi sul territorio di Pescara ad esempio fa parte della rete cittadina la rete antiviolenza cittadina della quale fanno parte sia le forze dell'ordine ma anche le autorità giudiziarie ed altri soggetti del terzo settore la scuola e altro e nell'ambito di questa rete per esempio vengono attivati dei protocolli proprio per garantire anche una sorta di qualità del servizio sia da parte delle forze dell'ordine sia ad esempio in ambito spedaliero dove per esempio vengono attivati i percorsi rosa dove quindi le donne trovano degli spazi dove poter essere accolte sia in urgenza quando fanno accesso nell'ospedale ma sia poi se devono ad esempio denunciare o raccontare dei fatti di violenza quindi diciamo è una sinergia tra più soggetti che poi quando funziona diciamo consente di contrastare il fenomeno poi vedremo e poi vedremo anche quali sono insomma dal vostro osservatorio privilegiato i fenomeni più nuovi quelli più difficili anche da 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 comprendere e quindi da fronteggiare però appunto facevi riferimento a una rete antiviolenza pescara che Paola è protagonista con il coordinamento del comune di una serie di iniziative che vanno a ridosso del 25 di novembre avete iniziato e tu ne sei protagonista già da alcuni giorni ci sarà però anche un evento di spettacolo che servirà che servirà a sensibilizzare ulteriormente un po' tutti i cittadini alla tematica intanto ecco questo progetto del comune di Pescara e anche diamo anche qualche appuntamento poi naturalmente sarai tu a intervistare assolutamente Carmen ma intanto mi va di dire da cittadina che è rassicurante sapere che ci sono realtà come queste perché è facile dire non siete sole ma poi effettivamente uno dice ok cosa faccio dove vado da chi vado quindi che ci siano queste realtà e che si divulghi questa cosa credo che sia la cosa basilare e poi mi viene prima di entrare nello specifico se me lo permetti Carmine mentre ascoltavo parlare Daniela ma anche le rappresentanti qui del Gav che la bellezza di queste realtà è che sono formate a non giudicare ecco io credo che sia importante comunicare questo perché molto spesso si teme proprio il giudizio allora queste realtà e Daniela me lo confermerai sono proprio strutturate e formate affinché chi arriva non si senta giudicato e mi piace che venga detto magari in maniera importante già da subito Daniela sì allora su questo posso dire quella che è l'esperienza del centro antiviolenza il nostro è un diciamo un centro che come tanti altri adotta proprio questa metodologia cioè quello dell'accoglienza chiaramente in segretezza nell'anonimato e con un atteggiamento diciamo empatico e non giudicante il che significa che la donna viene accolta e libera di raccontare e di non raccontare o anche di non come dire riferire le proprie generalità e viene ascoltata da operatrici che hanno nei suoi confronti un atteggiamento non giudicante o meglio credono cioè come dire la donna deve sentirsi creduta innanzitutto perché spesso a volte c'è proprio questo problema che le donne raccontano e dall'altra parte hanno un interlocutore che sminuisce magari il racconto o non crede diciamo al racconto quindi è fondamentale che dall'altra parte ci sia proprio un'interlocutrice io parlo al femminile per quanto riguarda le operatrici del centro che appunto abbiano un atteggiamento non giudicante è fondamentale ma perché si evita così la vittimizzazione secondaria che poi è l'altro grande aspetto assolutamente sì quello della vittimizzazione secondaria è un altro grandissimo problema e che può riscontrarsi diciamo su più livelli e in vari ambiti può riscontrarsi in ambito processuale anche per esempio in un'aula di giustizia potrebbero esserci fenomeni di vittimizzazione quando la donna viene come dire nuovamente come dire magari nuovamente giudicata non creduta sminuita eccetera ma come lì anche magari per esempio quando va a sporgere denunce in un ambiente non adeguato rischia di essere ad esempio non creduta o altro e quindi assolutamente sì questo è fondamentale torno riprendo in mano la domanda che mi hai fatto prima io diciamo che ho curato la direzione artistica dell'evento del 25 di novembre il quarto anno che ho questo compito ne sono grata al comune di Pescara per la fiducia perché perché è una grande occasione ora al di là del compito artistico la grande occasione è quella di sfruttare sfruttare lo spettacolo l'elemento spettacolo l'elemento artistico per poter sensibilizzare ecco prima sentivo il questore parlare di equilibri effettivamente tutto il lavoro di sensibilizzazione va nella direzione di ristabilire un equilibrio cosa difficilissima perché perché è un elemento culturale quello che purtroppo andiamo a combattere però la sensibilizzazione va proprio in questa direzione nel porsi le domande fare una riflessione in più e soprattutto almeno questo è il ragionamento che io tento di fare ogni anno quando mi siedo davanti a una scaletta vuota di questo spettacolo è proprio quello di far comprendere alle persone che il primo step per la sensibilizzazione è quello di non credere che questo problema riguardi sempre solo gli altri io ricordo un anno in cui dissi c'è una persona che ha subito violenza ed è seduto accanto a voi c'è stato il panico come se la violenza fosse sempre qualcosa di troppo distante come seduto accanto a me allora ho detto magari è la vostra destra e tutti si sono girati a destra o forse è la vostra sinistra e tutti alla sinistra tutti alla ricerca di chi era questa persona che aveva subito violenza come se questa cosa non potesse mai capitare poi fondamentalmente a noi ecco dobbiamo avvicinare purtroppo il concetto di violenza agli altri perché empaticamente ci si senta parte di un sistema da cambiare di un sistema sbagliato e allora ogni anno lasciatemi passare il termine sfruttiamo per modo di dire in maniera bonaria i grandi nomi le voci i volti quelli più conosciuti per far sì che ci si fermi proprio a pensare a questo argomento come un qualcosa che riguarda tutti anche loro guarda un po' anche loro e quindi quest'anno i loro saranno nella serata del 25 Marco Bocci Rossana Casale e Grazia Di Michele mi va di dire che ci saranno anche le principesse scalze e un show laser un laser show non mi dilungo su questi due momenti di spettacolo ma garantisco che il pathos sarà alto anche lì e noi abbiamo chiesto proprio a Marco Bocci e a Rossana Casale e a Grazia Di Michele che sono noti per una grande sensibilità in questa direzione di usare tutti i loro strumenti la loro arte per parlare al pubblico presente poi io sono stata spettatrice diciamo di tutto il calendario che ho visto formarsi in maniera puntuale precisa e con grande partecipazione da parte dell'assessorato alle politiche sociali e Carmine mi chiedevi anche di sottolineare magari qualche evento io invito ad andare in rete a cercarli tutti ne sono rimasti tanti molto interessanti ma se devo parlare con la mia sensibilità ce ne sono un paio che mi hanno molto colpito e che credo valga la pena sui quali valga la pena soffermarsi il 18 gennaio si parlerà delle mutilazioni genitali femminili questo è anche un altro argomento che apre uno scenario culturale forse lontano magari da quello italiano ma sicuramente ci porta a fare delle riflessioni che ormai sono anche in casa nostra delle riflessioni importanti e poi la cosa che mi è piaciuta di più di questo calendario è che parla molto ai giovani ecco questo penso che sia un ambito sul quale soffermarsi anche perché ai giovani va insegnata la non violenza perché la violenza è violenza ora noi stiamo parlando di violenza di genere il 25 novembre ci conduce a farlo ma la violenza è violenza la violenza verbale una violenza che molto spesso nasce in famiglia anche senza consapevolezza io non mi sento di stigmatizzare o di colpevolizzare a ditare le famiglie però molto spesso noi abbiamo Carmine interiorizzato una cultura posso fare un esempio basso basso concedetemelo no quando si dice magari anche ai figli vieni qua se no mo ti ammazzo io lo sento dire molte molte volte questo è un linguaggio violento non ne abbiamo consapevolezza ma magari questi eventi la partecipazione a questi eventi ci fanno fare questa riflessione di dire oddio quante volte ho detto questa cosa a mio figlio e lui magari poi l'ha detto al suo compagno e poi magari la parola il pensiero porta l'azione insomma io credo che bisogna davvero è arrivato il momento di metterci sotto i riflettori tutti certo tutti Paola poi ovviamente farei altre domande tu e andiamo le ospiti sono anche a tua disposizione noi ringraziamo appunto la loro disponibilità ecco mi è venuta già una domanda rispetto a quello che dicevi circa le mutilazioni genitali femminili ma se lo chiedo alle due operatrici arriva una straniera una persona che ha un gap linguistico nei confronti della vostra struttura ecco come si riesce a dialogare soprattutto cosa possiamo dire questa sera magari ad una immigrata una donna che subisce violenza però ha anche difficoltà a raccontare queste cose allora è capitato molto spesso che venissero straniere anche con difficoltà linguistiche vogliamo tranquillizzarle e dire che possono tranquillamente recarsi nei nostri uffici e poiché verrà nominato come ausiliare un interprete e col quale si procederà diciamo ad acquisire l'informazione nella lingua nativa quindi non c'è problema perché abbiamo un elenco appunto a disposizione dal quale attingere per provvedere anche in tal senso volevo anche approfittarne e aggiungere che possiamo anche tranquillizzare le cittadine che nel nostro sportello è presente anche una convenzione con l'università d'annunzio di Chieti per cui abbiamo anche diciamo l'ausilio delle psicologhe delle psicologhe del dipartimento di psicologia dell'annunzio grazie a una convenzione alla professoressa Verrocchio per cui abbiamo una reperibilità di psicologhe che all'occorrenza noi chiamiamo sia per supportare le persone più bisognevoli e quindi non solo per i minori dove vi è un obbligo di legge chiaramente ma anche quelle persone particolarmente vulnerabili e che possono magari sentirsi più a suo agio con il supporto di una psicologa e quindi ma voi come uscite alla fine di una giornata alla fine di queste esperienze di confronto con la violenza raccontata cioè è davvero un lavoro il vostro che vi pone a contatto con l'ingiustizia soprattutto l'ingiustizia perché appunto il palazzo di giustizia è ciò che deve difendersi dall'ingiustizia ma soprattutto dalle persone che le subiscono allora a livello emotivo è chiaramente non si può rimanere impassibili è chiaro che in qualche modo ci si riporta a casa quelle sensazioni le emozioni provate anche nel momento in cui ci si trova di fronte ad una donna che racconta degli episodi di violenza ma anche a dei minori noi ascoltiamo tanti tanti bambini e quindi è impossibile rimanere come dire impassibili esatto noi svolgiamo un'attività siamo formati per questo e quindi abbiamo poi lo strumento anche per metabolizzare riuscire ad interiorizzare a canalizzare le emozioni ci proviamo restiamo certamente esseri umani abbiamo comunque l'opportunità lo diceva la collega di poterci avvalere delle psicologhe che ad ogni modo sono un supporto anche per noi anche il solo fatto di rielaborare assieme quello che viviamo quello che ascoltiamo può aiutarci a trovare la strada giusta soprattutto per aiutare chi viene da noi e per incamerare anche quelle come dire sensazioni informazioni che poi ci sono utili anche per il proseguo delle attività di indagine di indagine cioè come diceva la dottoressa l'avvocato Galliardone occorre un'empatia non è possibile porsi davanti a una vittima a una persona offesa senza empatizzare anche anche l'attività di indagine perderebbe come dire la sua natura ne verrebbe in qualche modo risentirebbe ne verrebbe di efficacia soffrono la soggezione della divisa queste persone spaventate allora noi non lavoriamo con la divisa noi siamo in abiti civili essendo appunto all'interno del palazzo di giustizia siamo alle dipendenze dell'autorità giudiziaria quindi ci è permesso lavorare in abiti civili quindi non ci vedono così quando si regano da noi anche questo è un ottico importante perché avvicina sì assolutamente avvicina anche se poi devo dire tutti chiedono chi siamo che ruolo che ruolo rivestiamo perché comunque ci si sente come dire più sicuri no? è vero che la divisa può incutere un certo timore ma è anche vero quello che si vuole ottenere è proprio invece un senso di rassicurazione è quello che la divisa dovrebbe dare non dovrebbe spaventare a me ha colpito molto quando ha detto che arrivano molti bambini questa è una penso che sia la nota dolente di tutto lo scenario di violenza che si può raccontare e mi incuriosisce quale può essere il procedimento nel momento in cui è un bambino a farsi vivo cioè cosa scatta qual è il liter perché sull'adulto si può ragionare già lì per lì ma un bambino può nascondere dietro tantissimi scenari molto delicato lo dicevo prima in verità hanno un ruolo fondamentale le scuole le scuole i servizi sociali perché è chiaro i minori trascorrono la gran parte del tempo all'interno delle mura scolastiche e lì danno anche sfogo ai sentimenti si rapportano con gli insegnanti con i compagni ed è proprio magari in questi contesti che manifestano un disagio e manifestando questo disagio è importante certamente che ci sia qualcuno che lo sappia cogliere che lo sappia cogliere ma segnali segnali queste spie come dire un allarme a volte che i minori danno lo fanno al loro modo bisognerebbe appunto avere una maggiore sensibilità rispetto a questa cosa è complesso però in verità sono diversi i procedimenti penali che sono poi in realtà scaturiti hanno portato poi all'adozione lo ricordava la mia collega prima anche di provvedimenti come quello del 403 che è appunto un provvedimento d'urgenza che prevede l'allontanamento del minore qualora si ritrovi appunto ad essere vittima di abusi o di violenza o di condizioni appunto di maltrattamento scaturiti proprio dai comportamenti dagli atteggiamenti dei minori anomali dei minori che poi con l'ausilio delle psicologhe vengono ascoltate presso i nostri uffici e raccontano dei disagi delle violenze e certamente è dura mamma mia vorrei essere nei vostri panni è difficile immagino però è una missione certo e poi sempre relativamente ai minori se mi posso permettere Carmine mi vengono in mente tutte quelle mamme e qui Daniela sicuramente avrà molto da raccontare che proprio perché sono mamme e hanno dei bambini al seguito dico dove vado dicono cosa faccio e a tal proposito vale la pena ricordare che ci sono delle case che sono state confiscate e messe al servizio proprio di queste donne che vi chiedono aiuto con bambini e minori al seguito sì allora in particolare il comune di Pescara ha confiscato degli immobili che attualmente diciamo sta destinando al ricollocamento delle signore anche se in quel caso parliamo di case di sgancio perché poi le case dove le signore possono essere collocate sono di vari livelli quindi abbiamo diciamo il livello quello di emergenza immediata dove a volte le donne vengono collocate anche solo per due o tre giorni per un allontanamento immediato poi ci sono le case di rifugio che invece prevedono una permanenza di almeno da tre a sei mesi dipende insomma dalla composizione anche del nucleo e lì spesso vengono allontanate donne che vengono da altre regioni e che quindi hanno necessità proprio di essere collocate a molta distanza dal maltrattante e poi ci sono le case di sgancio cioè quelle case dove si vengono collocate signore che magari hanno donne che hanno concluso il percorso di fuoriuscita dalla violenza ma per difficoltà economiche per altre tipologie come dire di criticità hanno necessità di un alloggio e quindi questo è uno strumento che le istituzioni offrono loro per poter avere un'adeguata sistemazione a proposito di difficoltà economiche il tema non è soltanto alla fuoriuscita il tema è anche alla denuncia perché il deterrente purtroppo a volte principale è uno stato di non indipendenza economica a volte proprio dalla persona che pratica la violenza che risposte possono dare ovviamente non lo chiedo alla Polizia di Stato ma a chi vive quotidianamente questa situazione anche dal punto di vista tra virgolette politico-sociale vogliamo chiamarlo così che tipo di risposte si possono dare adesso e quali ancora perché questa è la giornata in cui dobbiamo fare tutti qualcosa in più dobbiamo sollecitare alle nostre istituzioni certo allora è ovvio che io posso riferire per quello che riguarda il centro antiviolenza e quindi la metodologia del centro anche se poi il centro ripeto lavora in sinergia magari con i servizi sociali con le istituzioni per dare una risposta a 360 gradi il centro in realtà ha proprio come dire la missione il compito di costruire un percorso attorno alla donna quindi la donna quando viene accolta nel centro viene ascoltata e viene supportata dal punto di vista legale psicologico e intorno a lei si costruisce sempre con la sua volontà perché non viene imposto nulla un percorso di fuoruscita dalla violenza che a volte prevede proprio anche un'indipendenza economica non tutte le donne hanno criticità economiche però effettivamente tante sì anche su Pescara abbiamo avuto molte situazioni di donne che avevano problematiche criticità economiche sia perché magari non avevano un reddito proprio oppure anche perché era il maltrattante nel caso specifico il marito il compagno a gestire diciamo l'economia domestica noi abbiamo avuto anche donne che non avevano soldi nemmeno per fare la spesa cioè era il maltrattante che fa la spesa oppure tanto per dire donne che avevano a disposizione un minimo budget una carta non potevano fare nemmeno spese personali e quindi quella è violenza è violenza economica e quindi la violenza economica porta proprio a questi risvolti per cui poi il centro attiva dei meccanismi per sostenere queste donne dal punto di vista dell'indipendenza economica e noi ad esempio abbiamo delle operatrici che si occupano proprio dell'autonomia delle donne per costruire insieme a loro un percorso a volte professionale quindi le aiutiamo con interiocini con inserimenti lavorativi collaboriamo anche con molte aziende del territorio che ci danno una mano e anzi colgo l'occasione per come dire invitare le realtà locali che volessero sostenere il centro anche nel collocamento delle signore nel dare disponibilità per i tirocini insomma accontentarci perché è una diciamo sono volentieri accettiamo tutte queste iniziative e invece e questa domanda invece la faccio a loro quando l'altra domanda è ma chi lo può pagare un avvocato per poi avviare questo percorso anche di contenzioso che ci sarà se si fa denuncia questa è un'altra preoccupazione che risposta potete dare voi in procura allora come diceva accennava prima la collega chiaramente vi è appunto il gratuito patrocinio a prescindere dal reddito previsto per questa tipologia di reato mi faccio anche dire direttore che vi è nel qualora venga emessa una misura cautelare di un allontanamento dalla casa familiare il giudice potrebbe anche ingiungere il pagamento direttamente con diciamo una detrazione direttamente dal datore di lavoro a favore della moglie e dei figli quindi vi è anche diciamo questa ulteriore possibilità che la legge prevede quando qualora l'autorità giudiziaria remetta una misura cautelare e quindi in questo caso in costanza di misura cautelare appunto vi è anche questa possibilità che è giusto diciamo rappresentare e comunque sarà seguita legalmente da un avvocato che provvederà allo Stato a pagare quindi in questo vogliamo tranquillizzare le cittadine di recarsi nei nostri uffici nelle questure nelle caserme dei carabinieri con la serenità che il percorso legale è coperto come reddito e quindi non ti è questo tipo di problematica è molto importante un'altra informazione io la chiedo a voi perché insomma operate nel concreto delle situazioni si è molto discusso appunto sulla tempestività degli interventi ovviamente ci sono tutta una serie di strumenti giudicanti di insomma di autorità giudicanti della magistratura non è solo la procura che risponde dell'immediatezza di eventuali misure nelle persone autrici di violenza ma nella vostra esperienza riuscite a essere anche efficaci poi nel fermare una violenza che è una situazione anche di imminente pericolo per la potenziale allora guardi direttore gli strumenti legislativi ci sono sia per procedere all'arresto in flagranza in flagranza di ferita sono state introdotte numerose normative che consentono diciamo di intervenire sia nell'immediatezza da parte delle pattuglie chiaramente secondo i dettati di legge con i determinati presupposti e andando poi successivamente a convalida dell'autorità giudiziaria sia con e chiaramente con l'emissione di una serie di misure cautelari che possono andare dal divieto di avvicinamento all'allontanamento della casa familiare attualmente è anche previsto la possibilità cioè il divieto di avvicinamento viene diciamo viene aggiunto la prescrizione del braccialetto elettronico diciamo gli strumenti legislativi ci sono per e quindi anche una certa tempestività perché chiaramente con l'introduzione della normativa della 69 2019 e poi a seguire tutto il resto della normativa che è stata recentemente esattamente la tempistica è molto rapida e chiaramente l'importante è effettuare una corretta valutazione del rischio nell'immediatezza per questo è importante che la vostra professionalità che voi anche se non viene riferito dalla vittima abbiate la percezione che invece quella è una situazione di pericolo indietro però anche su questo va detto che esistono appunto dei metodi ad esempio il metodo SARA che viene utilizzato sia dai centri antiviolenza accreditati in Italia e chiaramente anche da noi delle forze dell'ordine dove vi sono appunto dei fattori di rischio e quindi viene fatta una valutazione in base a determinati fattori di rischio come intensità come frequenza che ci consentono diciamo acquisendo gli elementi necessari per noi per effettuare la valutazione grazie anche all'apporto delle informazioni che noi abbiamo tramite la banca dati interforze in uso alla polizia alle forze dell'ordine di effettuare una valutazione del rischio e quindi anche comunicare alla persona diciamo che è a rischio la sua incolumità voglio un'ultima cosa ci tengo ad aggiungere direttore che non va diciamo sottovalutato anche lo strumento dell'ammonimento è importante dirlo questo perché lì dove magari il reato non è troppo grave stiamo diciamo su una soglia iniziale per esempio faccio l'esempio degli atti persecutori e quindi magari abbiamo una soglia iniziale di molestie piuttosto che di minacce il legislatore prevede anche la possibilità di rivolgersi al questore per richiedere un ammonimento questo passaggio è importante perché il legislatore ha pensato anche a una gradualità di intervento e chiaramente poi una volta effettuati gli accertamenti qualora vi siano i presupposti il questore ammonisce la persona costui viene informato dei centri anche previsti sul territorio per gli uomini maltrattanti quindi per fare anche un percorso di recupero quello di cui parlava il questore assolutamente si è importante è importante perché poi ricordiamoci che la pena l'erogazione della pena poi ha un termine quella persona andrà risocializzata si reinserirà nel tessuto sociale e quindi è chiaramente importante un intervento strutturato a lungo termine altrimenti chiaramente diciamo non si pensa anche diciamo a quell'altro aspetto che è importante perché poi curare il maltrattante e chiaramente salvare anche altre vittime quindi l'ammonimento del questore è molto importante e veramente può costituire una buona soluzione qualora la donna non se la senta di affrontare un iter giudiziare un procedimento penale ma voglia soltanto che la persona cessi la condotta ad esempio persecutoria faccio l'esempio degli atti persecutori come reato ma l'ammonimento è previsto anche per fatti di violenza domestica e per altri fatti specie che non sto qui a specificare e quindi dopodiché la procedura diventa anche d'ufficio quindi qualora la persona ammonita reiteri la condotta molesta a quel punto la procedibilità sarà d'ufficio e la persona non dovrà neanche rendere denuncia ma seguirà un percorso differente sì e quello del tema diciamo degli uomini maltrattanti è un altro tema ma in realtà lo stesso che varrebbe la pena Carmine magari un'altra puntata dei fatti e le opinioni noi ce ne occuperemo nello spettacolo per il tempo che ci concederà Luca Pompei io non ho citato lui proprio perché con lui abbiamo deciso quest'anno di occuparci degli uomini maltrattanti perché è vero che molti di loro vanno al CAM si chiama così questo centro di recupero degli uomini maltrattanti e molto spesso sono mandati lì dal tribunale però è anche vero che sempre più proprio perché si fa tanta divulgazione molti uomini vanno in questi centri chiedendo aiuto dicendo ho paura di me ecco ho paura di me noi speriamo che sempre più uomini si mettano in discussione e possano fermarsi prima di agire la notizia che più mi ha colpito una piccola notizia di qualche giorno fa ma mi ha colpito forse più di ogni altra notizia di quest'anno è stata quella di Colle Corvino qui non c'entra la polizia c'entrano i carabinieri in cui i carabinieri sono intervenuti per una situazione in una famiglia in cui un'anziana madre malata è scivolata in casa il figlio ubriaco è tornato a casa è venato sopra come si dice ha continuato a picchiare la madre purtroppo che giaceva già a terra perché non aveva preparato la cena questa notizia che mi ha colpito penso abbia colpito molti di voi ma la parte che ha colpito ancora di più è che la madre e anche la figlia che poi è stata ripresa dai carabinieri in strada hanno rinunciato a farsi refertare le ferite dal 112 che è arrivato allora al di là insomma comunque è una notizia che noi diamo ma è importante darla perché poi rende anche l'idea di una situazione generale che è quella a cui noi cerchiamo di porre rimedio vale a dire delle difficoltà che hanno le vittime anche nel denunciare allora io vorrei che a questo episodio faccia da contraltare il vostro ultimo intervento siete quattro donne impegnate su questo fronte e vorrei che ognuna di voi potesse lanciare un messaggio dire un qualcosa a chi magari ci sta ascoltando sta facendo altro a quest'ora magari cambiando canale ci ha intercettato per un attimo perché possa trovare invece una speranza in un momento in cui è al buio e magari anche da sola io comincerei proprio da te Paola io penso sempre alle donne con il loro timore il loro mondo interiore e le difficoltà a volte di svelare un segreto perché molto spesso la violenza in famiglia è il segreto di famiglia beh io posso soltanto invitare da donna al di là di tutto a recuperare a riprendersi in mano la propria vita e con questa con questi interventi che abbiamo ascoltato questa sera mi va di ribadire che non siete sole non siamo sole quindi facciamoci aiutare ad avere una vita più dignitosa decorosa e fatta di rispetto Daniela allora io raccolgo in parte le parole di Paola per invitare tutte le ascoltatrici mi rivolgo soprattutto alle donne per dire loro che comunque il centro antiviolenza a Pescara è aperto è aperto tutti i giorni della settimana noi abbiamo anche una reperibilità telefonica per il weekend dove siete? geograficamente siamo nella zona siamo in via Tavo tanto l'indirizzo è pubblico non si può comunicare e abbiamo una reperibilità telefonica anche durante il weekend infatti tutte le donne che compongono il 15-22 il sabato e la domenica vengono reindirizzate al nostro centro e quindi diciamo siamo a disposizione perché a volte ripeto non è necessario dare le proprie generalità però potete contattarci per qualsiasi cosa un chiarimento siamo sempre a disposizione quindi vi invito ecco come dire a prendere un po' di coraggio a farvi avanti il centro antiviolenza c'è Giorgia allora anch'io ricordo che il nostro ufficio è aperto tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 e anche nel pomeriggio nelle giornate di martedì e giovedì quindi ci trovate ci trovate lì quello che vorrei dire è che spesso chi subisce violenza prova sentimenti di vergogna sentimenti si prova un senso di colpa si ha difficoltà appunto anche a realizzare che si sta subendo una violenza perché la violenza lo si ricordava non è solamente la violenza fisica ma c'è una violenza psicologica economica che comunque non è accettabile non va tollerata e quindi credo che il primo passo è quello di iniziare a condividere a parlare con gli amici con la famiglia con le persone che ci sono accanto per iniziare a ragionare a interiorizzare che quella realtà che stiamo vivendo non è una realtà accettabile e poi se è del caso quindi contattare le forze dell'ordine sporgere denuncia e chiaramente nelle situazioni di pericolo comporre i numeri di emergenza è fondamentale fondamentale chiedere aiuto perché ce lo insegna la cronaca nazionale purtroppo basta un attimo e quindi non esitate a comporre il 112 il 113 a chiamare le forze di polizia Fausta ci sono anche delle donne che vi dicono ma lui mi ama ma io continuo ad amarlo certo perché dobbiamo considerare che molte di queste donne hanno fatto un investimento affettivo in un rapporto e quindi per loro è chiaramente un turbine di sentimenti contrastanti poi molte tipologie maltrattanti usano un vero e proprio terrorismo psicologico per cui alternano momenti lieti a momenti in cui invece ipercriticano insultano anche in maniera manipolativa e difficile da da percepire per loro e noi ci siamo mi sento di dire solo questo venite noi ci siamo come dicevano anche diciamo queste altre donne valorose che sono qui con me non vi giudicheremo non siamo lì per giudicare siamo per dare una mano per aiutarvi per sostenervi fidatevi delle istituzioni le istituzioni ci sono sono presenti con noi siamo noi le istituzioni il GAB è una realtà concreta noi ci siamo interveniamo con gli altri enti siamo pronti a sostenervi e quindi affidatevi a noi le parole di Fausta quella di Giorgia di Daniele e naturalmente quella di Paola non potevano chiudere meglio questa trasmissione che ci introduce a una giornata di riflessione ma anche di lotta perché dobbiamo lottare ogni giorno contro la violenza di genere noi lo facciamo con gli strumenti della comunicazione e loro lo fanno ogni giorno sul campo il 25 di novembre è il giorno della lotta alla violenza di genere ma lo devono essere come si diceva anche tutti gli altri 364 io ringrazio nuovamente soprattutto ripeto la procura di Pescara e la polizia di stato per averci consentito questa trasmissione che non sempre è possibile realizzare ma proprio grazie alla sensibilità delle istituzioni di questo territorio questa sera spero vi abbia accompagnato in un percorso di riflessione che siate più o meno coinvolti nel fenomeno ma comunque una battaglia che ci accomuna tutti quindi anche da semplici cittadini se viviamo o conosciamo situazioni di violenza e quindi abbiamo una sensibilità ancora più accentuata sul problema ma anche se siamo semplici cittadini che osservano qualcosa passeggiando per strada anche qui insomma la cittadinanza attiva riveste un ruolo importante non girare la testa dall'altro lato grazie arrivederci e buon 25 novembre a tutti grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti